Buonasera, siamo all'inizio del terzo quarto di BTO, vi ringrazio moltissimo, io sono Robert Piattelli e faccio parte un po' del team scientifico. Parlando con gli amici di TripAdvisor, avevo detto guardate che tanto oggi la vostra sala è vuota sicuramente, perché avete finito con la spinta rivoluzionaria e vi state imborghesendo, invece la sala è piena insomma. Tutti amici, perché in verità ho detto guarda che quello che tira è Airbnb, è Uber, voi siete il passato ormai. La prossima volta verrete con vestiti molto eleganti, vi farete servire un tè e parlerete del mondo di TripAdvisor. Ma invece forse TripAdvisor, vista anche questa sala, ha ancora un elemento rivoluzionario, poi lo vedremo anche da... Però è un soggetto che nel corso del tempo si è evoluto, è diventato ricco per esempio. Non l'abbiamo ospitato fino all'inizio di BTO, che era un soggetto più povero, insomma. Poi, insomma, sono diventati ricchi. Allora vi dico com'è strutturato questo momento di confronto di 50 minuti con loro. È stato voluto, l'abbiamo costruito su quello che vedono loro, cioè nel senso come punto di osservazione loro, che è privilegiato sul mondo del travel in sostanza. L'anno scorso l'ho moderato, in parte, e era una sala molto aggressiva, perché loro erano rivoluzionari un anno fa. E ora invece diamo spazio anche a qualche domanda. Non c'è grigliatura, nel senso che il tema può essere qualsiasi. Potete anche volere trattare il tema dei temi di Trip Abbasio, però secondo me non vale la pena in questo momento di confronto. Per cui ve lo lascio alla vostra sensibilità. 4-5 persone con una domanda, troviamo il tempo durante questi 50 minuti in cui Gianluca possa rispondere. Ripeto che quel tema, secondo me, stiamo perdendo tempo a trattarlo in questa occasione. Allora io do la parola a Gianluca. Grazie, salve. Mi fa piacere che siete così numerosi, anche perché per un po' di impegni vari all'interno, lungo le strade d'Europa, quest'anno mi sa che ho fatto solo un convegno in Italia, eppure non così rilevante, ma purtroppo sono stato impegnato molto all'estero. E mi fa piacere essere qui, perché ritengo il BTO ormai importante a livello internazionale. Ho invitato dei clienti in giro per l'Europa, ci sono qui dei greci e altri clienti, e ho ritenuto di non dover tradurre in italiano le slide. Perché ritengo che il BTO sia ormai un evento di respiro internazionale. L'anno scorso eravamo rivoluzionari perché abbiamo parlato di standbooking, di cui non parlerò oggi, non parlerò di nessun prodotto in particolare, forse accenerò qualcosa al panel che c'è dopo. C'è stata un po' di aggressività, tanto che Giuseppe Fratangelo ha deciso di emigrare. Adesso si trova a Miami, sto scherzando. Ci siamo sentiti due giorni fa e li ho mostrato dalla finestra dell'hotel Santa Croce, quindi potete immaginare il suo umore. Comunque, ecco, c'è un presenter? Ah sì, ok, grazie. Grazie mille. Allora, di che cosa parleremo? Di alcuni trend, sì, ha detto bene Robert, noi ognuno ha il suo punto di osservazione. Non so se il nostro è privilegiato, però un punto di osservazione. È un punto di osservazione. Ed è molto importante perché noi abbiamo tanti dati a disposizione. Ora, parleremo di reputazione, soltanto come trend, poi vi farò vedere come si gestisce perché è un trend importante, e da altri trend. E cominceremo dagli altri trend, quelli che siamo riusciti a individuare. E sono tutti analisi e punti di vista molto recenti. Cominciamo con una carrellata di numeri, ve li faccio vedere perché ogni volta che ogni settimana ho una presentazione questi numeri cambiano. Quindi devo stare attento ad aggiornarli. E fortunatamente ancora aumentano. 350 milioni di visitatori unici mensili, 290 milioni di recensioni e opinioni, 90 milioni di membri worldwide, e 190 contributi, non solo recensioni ma anche, ad esempio, foto, eccetera, al minuto. Numero importanti. Questa è la presenza di TripAdvisor, il big player a livello internazionale, sia TripAdvisor Media Group come insieme di società, sia TripAdvisor come una parte di questo TripAdvisor Media Group. 22% il gruppo del mercato mondiale. Ecco, vi ho riportato anche questo, che è molto carino il titolo. TripAdvisor domina le visite web, quindi non ha importanza se qualcuno di voi è arrabbiato o, come dice qui, scared, cioè, come si può dire, impaurito. Qualcosa di più forte che impaurito. Loro hanno, non i nostri, i dati che sono di Comscore, sempre internazionali, loro hanno un'altra fonte, ma è bello proprio per questo, è una fonte esterna, anche Comscore è esterna, ma è diversa dalla nostra. Loro si rifanno ai dati di Experian. E in base a questi dati che hanno fatto, hanno preso i mercati fondamentali, United States, UK e Australia, hanno visto che in tutti questi mercati TripAdvisor è sempre al vertice. Quindi domina il web. Cominciamo con i trend. Come vedremo, sono tanti trend, ma si riducono poi ad uno fondamentale, che è questo, la proliferazione del mobile, dell'uso del mobile. Questo è il trend fondamentale a cui tutti gli altri poi appartengono. Solo cominciando da, ecco, considerando un punto di vista strategico fondamentale, che è quello della nostra app, che è la app in assoluto più usata, più scaricata al mondo nel business, nell'industry, 215 milioni di download, la nostra app, finora. Questo vi fa capire come l'uso, l'utilizzo del mobile, nell'ambito di questa industria, cresce, e cresce velocemente. E vi farò vedere da alcuni dati. 45% ormai sono le persone che fanno ricerche su TripAdvisor da mobile, solo due anni fa, questa rate, questa percentuale, era molto inferiore. Eravamo almeno del 20%, 45%. E sta crescendo, quindi ha quasi raggiunto le ricerche da desktop, che sono il 55%. Di queste ricerche da mobile, la grossa parte, la grossa fetta è rappresentata da ricerche che si fanno all'interno della destinazione. Quando una persona è già all'interno, è logico anche, all'interno della stessa destinazione, quando io sono arrivato a destinazione, comincio a usare il mobile, soprattutto. Cerco ristoranti, 45%. Leggo recensioni, 32%. Vedo che cosa posso fare all'interno della destinazione, quindi attrazioni, grosso modo, 37%. E poi la guida. La guida che adesso ricomprende molte delle principali città, ma queste città, questa lista aumenta, la lista delle città ormai coperte dalla guida aumenta incessantemente. Una guida che davvero vi conduce dappertutto all'interno della località, della destinazione. E pensate a quanto importante sia uno strumento di questo tipo. Ti blocco un attimo, se posso aggiungere una cosa, volevo chiederti, ma i contenuti della guida sono di meccanismo dal basso verso l'alto, c'è una redazione, la possibilità che, per esempio, una destinazione possa essere incaricata di essere amministratrice di alcuni contenuti? Assolutamente. Assolutamente. C'è la possibilità di proporre la guida della propria destinazione. Questo era molto pubblicizzato all'inizio. Poi, forse io mi occupo di altro, quindi non sono attento, però può darsi che sia, poi se ne parliamo con Valentina Quattro, sicuramente lei è più aggiornata in questo, però sì, c'è la possibilità, noi abbiamo voluto come natura di TripAdvisor che tutto arrivasse dal basso. Chiaro che deve essere comunque una guida attendibile, non è che accettiamo di tutto, i contenuti devono essere poi vagliati e devono essere considerati attendibili. Quindi avete una redazione vostra su questo? Anche sì. Ora, agganciato, connesso alla proliferazione dell'uso del mobile, possiamo perfino individuare, l'abbiamo fatto con Tribarometer nel 2015, una nuova figura di viaggiatore. Il cosiddetto connected traveler, cioè il viaggiatore connesso. Abbiamo finito di dire che l'uso del mobile è importante, rilevante all'interno della destinazione, quando io sono già lì dove ho programmato di essere e quindi c'è questa figura nuova del viaggiatore sempre connesso, attraverso il mobile soprattutto. Ora, sono coloro, i viaggiatori connessi, sono coloro che hanno pianificato, hanno prenotato un viaggio attraverso il mobile. Vi dico che questo tipo di viaggiatore non poteva nemmeno essere considerato come una classe a sé stante solo due anni fa. E possiamo anche individuarli e darne una percentuale logisticamente. Cioè, le varie nazioni hanno una percentuale diversa di questi connected traveler. Guardate, Thailandia è il primo posto, ma generalmente i paesi asiatici sono al primo posto per questo tipo di classificazione. 65% Brasile, Italia c'è anche, prima degli Stati Uniti. Questa è una grande opportunità, questo è una slide molto importante per chi si occupa di turismo, perché tutti questi sono persone che vedremo che il viaggiatore connesso è un viaggiatore che programma soprattutto viaggi internazionali. Queste sono opportunità di business per voi, però dovete essere lì, dovete essere ottimizzati, dovete farvi cercare e trovare sul mobile. Qualche volta ho partecipato a delle conferenze per esempio in Grecia, in Turchia, che sono le zone fondamentali che adesso seguono, ma anche le russi, eccetera. Generalmente si fa la prova in questo momento si dice alzatevi quanti sono albergatori provate a prenotare il vostro hotel dal mobile e vince il premio chi lo fa per primo e lì molti albergatori hanno scoperto che il loro hotel non è prenotabile o difficilmente prenotabile dal mobile. All'interno della classificazione ampia del viaggiatore connesso ci sono dei trend, dei sotto trend loro sono generalmente persone che sensibili al prezzo alle recensioni alla location poi vedremo che questo sarà un altro trend a sé stante ma il 77% di loro è molto focalizzato sulle amenities cioè sulle come possiamo cambiare i servizi alcuni li chiama servizi ancillari eccetera free room wifi è il primo posto 74% free breakfast questo l'avevamo scoperto anche già nel 2014 con tribarometer scusate il free breakfast è importantissimo io dico sempre che poi dipende anche dal tipo di hotel però dico sempre che non offrire la colazione che è il momento clou ormai rimasto della mia vita in hotel perché poi io soprattutto chi viaggia per business non vive l'hotel e quindi il momento della colazione è l'unico momento di contatto non offrire la colazione free il free breakfast significa come invitarti a casa e sbatterti la porta in faccia non aprire il frigorifero in room amenities 58% il free shuttle service quindi i servizi di free shuttle dobbiamo considerare questa è stata una scoperta dobbiamo considerare che la maggior parte dei viaggiatori connessi siano millennials e loro sono molto sensibili a questo servizio di free shuttle quindi dall'aeroporto all'hotel e poi lo staff che parla la tua lingua questo lo devo dire continuamente in Turchia dove nonostante adesso la situazione è cambiata negli ultimi giorni ma comunque loro stavano crescendo molto dal punto di vista del turismo hanno strutture in grado di competere ai massimi livelli internazionalmente però è chiaro che molti di questi non avevano nemmeno uno staff che parlasse un'altra lingua al telefono stiamo parlando di hotel di sei stelle di resort di sei stelle trend numero due queste persone sono persone che generalmente pianificano viaggi internazionali soprattutto la Turchia 58% l'India New Zealand South Africa e Brazil ma guardate voi dovete vederlo questo vi ripeto come opportunità di business per voi queste sono persone che da qualche parte andranno il numero tre l'ultimo trend all'interno di questa categoria è l'importanza della location più che in passato ma questo l'avevamo già capito anni fa la destinazione acquistava sempre più importanza la destinazione in se stessa mentre in passato l'importanza era incentrata sull'hotel io sceglievo l'hotel oggi si sceglie la destinazione e poi l'hotel perché inserito in quella destinazione e perché più o meno connesso con la destinazione perché non serve soltanto essere inseriti in una destinazione realisticamente ma essere connessi con la destinazione perché loro guardate sono interessati alle attività che posso svolgere nel luogo alle esperienze poi vedremo questa importanza dell'esperienza e la cultura che posso incontrare nel territorio se un hotel è un hotel anonimo che non è innestato nella cultura del territorio quasi non serve e il mobile check-in questo è l'ultimo ecco siamo arrivati all'estremo di gente che non solo vuole utilizzare il mobile per pianificare e prenotare ma per fare il check-in dice ma se io posso fare il check-in per il mio volo perché non lo posso fare per la mia stanza quando questo è un'opportunità di ridurre i tempi sia per lo staff interno dell'hotel che può occuparsi di altro sia per me che qualche volta devo ottenere tanto soprattutto nei grandi eventi che si organizzano ci sono questi grandissimi hotel e questa fila che bisogna fare ma soltanto l'11% delle strutture sta offrendo questo a livello internazionale però c'è già questo 11% che può fare da guida e poi la reputazione di questo andiamo molto velocemente perché vi voglio parlare di come si può gestire la reputazione 89% questo per farvi capire 89% dei viaggiatori il 96% degli hotel ritiene la reputazione un elemento importante all'interno del processo di prenotazione quando si parla di gestione della reputazione che quindi fermiamoci allora che siamo a un capitolo differente sì 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 allora vediamo spazio vai vai su questa chi vuole aggiungere non c'è da far domande qui perché mi sembra che insomma sono dati elaborati da un soggetto che guarda dall'alto le elabora tantissimi e restituisce un elaborato di un ragionamento che dà dei suggerimenti di attenzione di alerte ad alcuni trends che cosa possiamo abbiamo qualche cosa che possiamo aggiungere su questo una domanda a Gianluca no non ce l'ho veramente sono stato esaustivo buonasera a tutti buonasera Gianluca dunque si parlava di connessione col territorio sono sono Nicola Palomba sono albergatore in Sardegna si parlava di connessione col territorio qualche suggerimento perché si possa riscontrare anche dal dal mobile anche dal profilo o qualche altro suggerimento c'è un'altra domanda vediamo se possiamo rispondere tutte e due ecco la lì vedi che piano 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 Andrea Antoniolli gestore di campeggio le voglio chiedere come viene segnata la valutazione della località oh due domande bello non mi sembra sì allora anche un po' della seconda che è un po' più più difficile da rispondere ma allora il rating di una località come viene sempre sulla base delle recensioni quindi scusa è la somma delle recensioni delle singole strutture recettive per esempio ma guardate non voglio ecco perché poi non è che sia esperto di tutto però mi sa non voglio sbagliare perché poi cambiano le cose però ci sono c'è la possibilità di inserire recensioni sulla destinazione stessa direttamente quello magari che lo dà perfetto cioè almeno non so ecco se ho capito bene la domanda e poi scusate c'era l'altra domanda ecco quando parlavo di connessione con la destinazione non parlavo di qualcosa che riguarda il mobile in senso specifico cioè la connessione con la località e con la destinazione è qualcosa che queste persone che generalmente questa categoria ricerca quando in hotel quindi si tratta di rapporti con l'hotel quindi siamo già a servizi che l'hotel offre un'altra buongiorno Sara Scurati Unicredit volevo capire se come questo macro trend comunque del mobile va a impattare invece sull'altro grande pezzo che è quello della ristorazione grazie un'altra poi risponde le raccordiamo si 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 a chiedo se entra a far parte le valutazioni delle singole strutture cioè se una struttura se una località delle strutture è molto buone io ho avuto l'impressione che la località ne benefici al di là di quella che è la qualità della bellezza della locale allora su questa mi sa che posso rispondere anch'io secondo me non è la somma della no no assolutamente la valutazione se sono bene in Francia o a Parigi o in lì, per cui effettivamente anche io pensavo che fosse c'è un soggetto che è la destinazione e ci sono soggetti che la valutano, poi c'è tutta la cosa in cui dicono sì bella Pisa ma c'è quella torra che pende insomma, va beh l'altra invece era allora ho perso l'altra domanda era su quali discorsi della disolazione premesso che adesso abbiamo The Fork quindi The Fork è una società di tripadvisor quindi io non mi occupo è stata presente oggi con un suo slot e quindi non mi occupo più dei ristoranti direttamente lo facevo all'inizio quindi loro avranno dei dati su questo però intuitivamente adesso con The Fork c'è la possibilità per i ristoranti di avere prenotazioni e tu puoi prenotare lo slot di orario che vuoi eccetera, il tavolo e quindi è chiaro che il mobile è una grande opportunità anche perché con i sistemi che abbiamo ottimizzatissimi per il mobile è davvero una grande opportunità andiamo all'ultima domanda e poi passiamo alla parte pratica quando si parla di gestione della reputazione dobbiamo cominciare ecco cominciamo da un argomento dal coinvolgimento dell'hotel quanto è convolto l'hotel in tripadvisor come agisce l'hotel in tripadvisor questo è importante ai fini della buona gestione della corretta gestione della reputazione lo abbiamo sempre detto in tripadvisor io ci credevo sempre lo ripetevo sempre non avevamo le prove certe prove certe non i nostri sondaggi eccetera ma uno studio esterno e ce l'abbiamo finalmente ho perso mamma mia scusatemi ce l'abbiamo finalmente anche perché se lo perdevi dovevi uscire e ricomprarne un altro insomma era complicato allora finalmente abbiamo uno studio di Atmosphere Group che praticamente ha connesso ha dimostrato questo link questa connessione stretta fra quanto l'hotel è coinvolto in tripadvisor e la sua performance in termini reputazionali ma la cosa che più ci interessa perché la reputazione non è fine a se stessa in termini di revenue che io posso attirare qual è questo studio? ora hanno dimostrato che se io sono partiamo da un coinvolgimento basic di base qual è? almeno un verified owner cioè io sono registrato sulla pagina almeno più di 10 foto inserite sulla struttura e una risposta alle recensioni da parte dell'owner quindi del management di più del 25% di 25% o più questo è un coinvolgimento basic bene che cosa è stato dimostrato? che un coinvolgimento basic di questo tipo porta a un più di 387% nella media delle page views per mese è un dato guardate ve lo dico io forse voi non avete la non riuscite a capire quanto è importante un incremento di questo tipo nelle page views 387% anche il popularity ranking cambia c'è la possibilità di incrementarlo di più del 63% e poi nel caso in cui abbiate per esempio dei prodotti come business listing oppure instant booking oppure CPC eccetera ma instant booking non è ricompreso qui perché è nuovo un incremento del revenue fra il 30 e il 40% cioè se vi sembra poco ditemelo però non credo questo è il coinvolgimento basic se facciamo qualcosa in più e cioè se l'hotel che cos'è questo qualcosa in più seppure noi chiediamo recensioni quindi sollecitiamo nuove recensioni che cosa succede c'è un ulteriore incremento rispetto agli hotel che sono già coinvolti qual è? più 40% di page views per mese un più 25% di click nel caso del profilo aziendale al sito della propria struttura più 32% nel caso di campagne CPC di CPC di click per mese anche questo se vi sembra poco ma non credo tanto che si può parlare di un circolo virtuoso che si innesca da quando? da quando vedete qui sopra non ci arrivo io chiedo una nuova recensione io sto chiedendo una recensione il guest scrive la recensione guardate abbiamo anche studi perché abbiamo strumenti e quindi studiamo anche l'importanza il risultato di questi strumenti su quanto porta a chiedere una recensione e guardate c'è un incremento pazzesco quando tu chiedi la recensione è chiaro deve avvenire all'interno di un rapporto umano ben costruito però siamo nell'hospitality guardate non diciamo nulla di nuovo quindi il guest scrive una recensione l'hotel analizza il feedback all'interno del feedback trova certamente qualcosa che non va apporta delle migliorie all'hotel sulla base di questo feedback ancora aumenta sicuramente le proprie recensioni aumenta la propria visibilità è più visibile su TripAdvisor attrae molti più visitatori che prenotano su TripAdvisor e il cerchio ricomincia ora qual è il coinvolgimento base prenditi cura del tuo profilo su TripAdvisor foto video descrizioni eccetera ma di questo ne avevamo già parlato nel TripAdvisor 2014 quando avevamo detto che tutti questi elementi impattano sul coinvolgimento dei viaggiatori ancora non parlavamo noi di performance ma dicevamo impattano sul coinvolgimento dei viaggiatori è chiaro però che se il viaggiatore si sente più coinvolto il risultato è che tu aumenti la tua performance poi postare risposte alle recensioni appropriate badate bene non è soltanto sufficiente rispondere ma rispondere in modo appropriato e vedremo che cosa significa e poi sollicitare nuove recensioni questo è il coinvolgimento base ma questo ai fini di una gestione della reputazione però quando si parla di gestione della reputazione dobbiamo partire da qualcosa che sta più a fondo e questa mi sa che è l'ultima slide quindi ah no guardate prima di questo questa è la penultima prima di questo vediamo che sulla base per quanto riguarda le risposte la risposta del management alle recensioni questo è uno studio nuovo di Focusrite del settembre 2015 80% dice l'80% degli intervistati dice che quando c'è quando loro vedono sulla pagina dell'hotel che le recensioni hanno una risposta loro già creano in se stessi un'idea positiva dell'hotel questo significa che la risposta della recensione partecipa alla costruzione dell'identità percepita dell'hotel cioè io attraverso la risposta delle recensioni riesco a percepire chi sei tu e come ti comporti sul mercato stai parlando di te stesso attraverso la risposta alla recensione guardate che è importantissimo è marketing non solo ma guardate quanto è importante quanto è potente 85% dice che perfino in caso di recensione negativa se c'è una risposta appropriata a quella recensione la mia idea sulla recensione cambia quindi la risposta alla recensione più potente rispetto alla recensione negativa stessa ora che cosa significa rispondere no allora era la terza ultima che cosa significa rispondere in modo appropriato innanzitutto scegliere la persona adatta che non significa soltanto scegliere una persona che sia quadrata sia bilanciata sia equilibrata questa è la prima cosa però non basta noi riteniamo che come vediamo da best practice internazionale deve essere anche una persona di una certa rilevanza è chiaro che non è la stessa cosa con tutto il rispetto dello staff dello staff al desk non è la stessa cosa se scrive un receptionist una risposta alla direzione oppure il general manager io se rispondo il general manager ti sto dicendo che il tuo feedback è rilevante per me di grazie ringrazia hai instaurato un rapporto con questa persona all'interno dell'hotel lui ti ha scritto una recensione significa che non solo ha accettato questo rapporto ma ti ha detto voglio che questo rapporto continui nel tempo fallo non gli sbattere la porta in faccia continua il suo rapporto rispondi prontamente però a qui badate bene noi lo diciamo sempre però se siete arrabbiati la risposta deve essere appropriata siete in grado di fare una risposta appropriata aspettate un attimo calmatevi ok evitate tutte le controversie evitate le controversie l'avevamo detto già l'aveva detto già Focusrite nel 2012 gli atteggiamenti aggressivi o difensivi allontanano le persone che non prenotano quindi se volete le prenotazioni gestite voi stessi non ripetete messaggi negativi è una regola di marketing fondamentale basilare cioè voi rinforzate il messaggio negativo per opposta cosa voi dovete invece rafforzare i messaggi positivi e lo vedremo adesso soltanto un esempio address specific complex cioè parla di cose specifiche di problemi specifichi questo dimostra proattività ho già risolto il problema questo problema di cui tu avevi parlato l'ho risolto si originale questa è la cosa più difficile questa io ringrazio Dio che non sono un albergatore posso solo parlare di questo voi sa voi il compito di farlo però questo è il lavoro più difficile per questo più bello del mondo ok si originale usa ironia e creatività però anche qui ho conosciuto tanti direttori guardate in giro per il mondo ne conosco tanti in questo gli italiani sono più bravi rispetto agli altri ho conosciuto tanti direttori c'è chi è veramente bravo a fare questo allora questo ecco questa è vedi è soltanto una di grazie rinforza i messaggi positivi guardate quello ha detto qualcosa di positivo io dico oh siamo grati che tu abbia trovato e ripeto il messaggio positivo poi se c'è da dire scusa per questo lo dici perché sei un essere umano e quello è un essere umano follow up contact me directly anche qui dimostri proattività poi lo inviti vabbè queste regole fondamentali della società e poi dimostri l'importanza del feedback general manager che cosa? dove sta l'indirizzo mail? petun c'è qui ah sì ma non lo so se lo può fare l'owner ma credo non lo so me l'hanno data sta slide qua che l'ha data Valentina no no Valentina no però adesso non so poi le regole cambiano sembra l'anno data dagli Stati Uniti questa è una slide nuova quindi controllate controllate io non c'ho non c'ho tempo di gestire un hotel allora praticamente l'ultima slide è questa davvero l'ultima e poi finiamo perché io sono abituato che me ne vado sempre col tempo me ne vado sempre col tempo e mi dicono alla fine 5 minuti e io sto ancora a metà la buona reputazione stiamo parlando di gestione della reputazione ottimale abbiamo detto tante cose da fare best practices eccetera ma si parte ancora per farlo propriamente dobbiamo partire ancora da più lontano primo identifica individua il tuo target che cosa significa qua parlerei mezz'ora su questo però non lo faccio che cosa significa identifica il tuo target noi veramente questa parola target l'abbiamo eliminata la BTO però se vuoi non sapevo non l'avete avvisato si no nel senso che cluster target cluster guardate la cambio perché ci sono tante parole che posso utilizzare al posto di questo individua il tuo gruppo di persone con cui vuoi parlare ci piace molto di più per esempio ma è terminologia spicciola insomma le persone non sono un mercato ah ok va bene in quel caso però allora vediamo una cosa il che cosa no no dicevo no no hai ragione hai ragione in quel senso no perché c'è questo è tutto è un messaggio allora per come la pensiamo è un messaggio negativo sì perché identifica segmenti cluster e cose come soldi come invece sono e questo nasce ecco perché avete finito la vostra spinta rivoluzionaria perché fra persone fra persone che si parlavano sto scherzando naturalmente però bisogna stare un po' attenti perché noi come viaggiatori vi abbiamo amato molto loro come soggetti della filiera abbiamo amato molto anche odiato insomma anche amato se voi cambiate questo linguaggio però a noi insomma non non ci piacete più come ci piaceva quando si parla di target non si parla di di persone di tipo di persone si parla della posizione della mia posizione sul mercato appunto vabbè no 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 ve lo spiego subito allora significa che il turismo di massa è scomparso non esiste più oggi ci sono tanti gruppi specifici di turisti che ricercano tutti esperienze tailored cioè fatte su misura questo significa che un hotel non può soddisfare tutti i vari tipi di turista non lo può soddisfare ora l'hotel per questo c'è Airbnb quello no perché Airbnb prende una parte di questi turisti prende una parte Airbnb fa parte di un trend almeno a mio punto di vista poi potreste non condividere per me Airbnb è un trend cioè una parte di queste persone che vogliono essere così connesse al territorio ne abbiamo parlato prima così tanto connesse all'estremo connesse col territorio da vivere non più come turista ma da vivere come persone del posto per un po' di tempo da calarsi all'interno dell'esperienza della location che può piacere ad alcuni e piace attraverso Airbnb può non piacere ad altri e non credo che questo target sia scusate target ho detto comunque guardate significa sapere chi voi siete chi volete essere sul mercato la ragione per cui siete presenti sul mercato purtroppo il problema di oggi non è la domanda globale io sento parlare oh la crisi nel turismo non c'è crisi nel turismo la domanda globale l'hanno detto anche in questi giorni un sacco di persone cioè la domanda globale è sempre in aumento il problema è che ci sono tanti hotel in tutte le parti del mondo che sono senza identità va bene questo è il problema ora identifica no non lo dico più significa significa scoprire scoprire ma andate bene questo qua uso la parola intenzionalmente scoprire il vostro ma qua tu mi aggredirai unique selling point si può dire questo? è selling vabbè 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 comunque unique selling point cioè la cosa che vi fa stare la regione per cui voi siete ora generalmente questo l'abbiamo visto lo hanno visto io qualche volta ascolto anche le conferenze di quelli che si occupano di web marketing e abbiamo scoperto che generalmente l'hotel non conosce il suo unique selling point non lo conosce generalmente questo significa vendere l'hotel con una comunicazione basata su altri fattori diversi da quelli che realmente rendono l'hotel speciale questo è avvenuto soprattutto a Parigi per esempio a Parigi loro stavano assolutamente non pensando di avere dei criteri molto più forti con i quali vendere l'hotel in questo caso però che cosa succede? quando tu non hai idea chi lo sa è il visitatore che già sta venendo da te se lui sta venendo da te perché ha scoperto ed è contento perché ha scoperto le reali ragioni che tu non stai comunicando le reali ragioni perché tu sei sul mercato tu ci stai perdendo perché lui l'hai preso per caso però ti stai perdendo tutti gli altri che hanno afferrato la tua comunicazione sbagliata e non sono venuti e magari erano quelli adatti ora guardate che cosa significa tutto questo? che lo Unix selling point è qualcosa che è il cliente il guest non il cliente è il guest che mi deve dire qual è la mia ragione sul mercato e generalmente è sempre qualcosa legato a un'esperienza a un'esperienza tu devi ascoltare e c'hai una grande opportunità di ascolto anche con le recensioni tanti hotel e questo l'abbiamo fatto con Whip Hotel a Parigi ad esempio sono grandi amici grandi consulenti con cui io mi confronto giornalmente loro hanno fatto questo studio attraverso le recensioni hanno scoperto lo Unix selling point di tanti hotel e hanno scoperto che era sbagliato e poi hanno scoperto quello vero è sempre qualcosa legato a un'esperienza se è sempre qualcosa legato a un'esperienza perché oggi c'è solo l'esperienza che conta e noi compriamo qualcosa per fare un'esperienza il modo esatto di comunicazione è emozionale che cosa significa arriviamo all'estremo e poi finiamo e passiamo al punto i tre sono subito in un minuto li faccio se è emozionale che cosa significa sono arrivati all'estremo di dire tu devi comunicare in via emozionale cosa che le normali foto la foto è il normale strumento di comunicazione non riescono a fare una foto non ti rende le emozioni non dice quelle emozioni non rende le emozioni che tu puoi offrire allora loro dicono usiamo photoshop 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 e qua generalmente anche a livello internazionale tutti si girano e fanno what photoshop photoshop perché photoshop se ritorna a quei depria in cui si faceva vedere il mare in uno sfondo in un hotel in cui non c'era in montagna perché vi dico questo quello va bene perché vi dico questo guardate tutto cambiato e poi voi vi dice ma se uso photoshop come faccio a gestire le aspettative come faccio a gestire loro hanno fatto questo 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 esempio su un hotel romantico un hotel che vuole comunicare ed è romantico a Parigi come fa a comunicarlo attraverso normali foto è più facile comunicarlo ad esempio attraverso una foto in bianco e nero con una rosa in primo piano rossa ok tu stai comunicando un'emozione che non riesce la normale foto ma questo non significa mentire tu puoi gestire le aspettative in questo modo è tutto cambiato è rivoluzionario vi sto dicendo cose che non sono di tip advisor non è che le penso io queste cose qua praticamente gestire le aspettative come si può fare io mento in questo modo mentisco come dicono alcuni in questo modo no perché la tua offerta tu la offri quella emozione sta qui è la comunicazione attraverso le normali i normali mezzi che sta qui quindi tu stai perdendo nella comunicazione con ad esempio photoshop tu riporti la comunicazione a livello dell'esperienza che tu offri quindi quando si parla di gestione delle aspettative alcuni la vedono in maniera contraria gestisci le aspettative cioè offri quello che hai premesso però attenzione prometti quello che offri perché molte volte non lo facciamo offriamo ma non promettiamo niente e questo è sbagliatissimo sarebbe come dire io esco quando io ho conosciuto mia moglie ok volevo starci insieme che ho fatto mi sono photoshoppato non se ne accorge perché tu con photoshop in quel modo non online i siti online photoshop nel senso che io mi sono presentato come il sapete l'uomo a cui non si deve chiedere mai ok non sono così realmente in tutti i giorni se lo fossi per tutta la vita mia moglie mi manderebbe al manicomio diceva tu non sai bene ma in quel momento lo dovevo fare per dare l'idea che io sono qualcuno che le può dare altre cose ma che ce le ha lì ok stiamo andando troppo establish and manage relations allora se io devo se io devo dare offrire qualcosa che ho promesso come offro questo qualcosa in due modi offerta di alta qualità questo è l'aspetto oggettivo diciamo e poi l'aspetto soggettivo il più importante e qua ritorniamo a quello che dicevi tu stabilire e gestire rapporti umani non ci dimentichiamo che siamo lavoriamo nell'ospitality lavoriamo con persone che hanno bisogno di contatto umano quindi qualche volta mettiamo da parte il computer mettiamo da parte anche TripAdvisor e occupiamoci delle persone che stanno in hotel ho finito grazie ma grazie Gianluca allora però ci siamo tenuti dieci minuti per stare un pochino insieme ho fatto di tutto per arrivare lì e non avere le domande noi per invece ce le abbiamo le domande però più che altro qui ho una testimonianza che ti chiedo di quello che ti chiedevo quanto è importante abbiamo una banca per cui dopo fra l'altro c'è anche delle aperture di credito mi ha detto che possiamo dare a tutti gli iscritti ah lui c'è tutta la quanta busta ecco il mio collega qua di fianco alle 5 e mezza le buste per tutti no scherzi a parte noi come Unicredit come? noi come Unicredit abbiamo lanciato nel 2000 come Unicredit abbiamo lanciato nel 2015 questo progetto Unicredit for Tourism dedicato alle imprese del turismo chiaramente ci sono finanziamenti e quant'altro che banca siamo e quello facciamo quindi inutile dire altro quello che però abbiamo cercato di fare studiando un po' e cercando di capire questo settore che non ci appartiene non del tutto quanto meno abbiamo capito quanto questo tema della reputation sia di fondamentale importanza e quanto possa esserlo anche nel capire dove un'azienda sta andando e quello che abbiamo fatto che è una cosa un po' diversa un po' nuova se vogliamo per una banca è stato investire in equiti in una start up innovativa che è Travelapil che proprio di questo si occupa quindi abbiamo ritenuto talmente importante questo addirittura da risolvi sopra che non è cosa facile per loro in sostanza in sostanza che cos'è da un'affidabilità di una chiaramente con dei parametri bancari si affianca anche una valutazione sulla qualità della destinazione su quella struttura intesa come sta sul mercato e come viene raccontata due domande ancora chi ce l'ha? non due domande uno che ne abbia due di domande chi ha una domanda eccola lì hai parlato ciao sono Moira di Havaibook uno dei channel manager che integra gli standbooking hai parlato di standbooking ci crediamo molto quando arriverà finalmente sul mercato italiano una data allora la data precisa non la sa nessuno però ho una data orientativa che è all'inizio del secondo trimestre del 2016 ci siamo quasi forza l'ultima Camilla vuoi te o lui? ciao sono Nello di Capri Online volevo un'informazione da diversi mesi la classifica degli hotel in TripAdvisor è cambiata cioè quando io entro non vedo per classifica ma scelti per me ok avendo accesso ai dati analytics di alcuni hotel diciamo i primi tre abbiamo notato un calo del traffico fra il 40 e il 60% da TripAdvisor no aspetta il primo 49% in meno ma i tuoi cioè tu hai i tre hotel hai visto i primi tre hotel non ho capito i tre hotel che prima uscivano tutti prima Capri Online è una web non avevo capito questo allora i primi tre hotel erano sempre visti all'inizio come nelle prime tre posizioni perché c'era la classifica normale adesso che c'è il Just For You sono calate le visite sì stanno contenti gli altri no? sono contenti allora un po' per uno dai sono contenti tutti alla fine ognuno col Just For You vede una classifica diversa la classifica normale non è scomparsa cioè lì tu basta che cambi il filtro e molti lo cambiano poi per fortuna guarda ti dico ti dico la verità non solo per la mia incolumità ma per fortuna anche per il lavoro non è non è dato così poi non c'è tanta tensione legata alla classifica che io ho sempre detto non è molto indicativa cioè una città come Roma e dire che il primo hotel che sta a Roma sia abbia la stessa reputazione del centesimo hotel non è sbagliato però uno sta al primo e l'altro al centesimo capisci perché sono 1300 hotel allora in questo senso è giusta Just For You allora forza l'ultima domanda se no si chiude qui non ringraziamo il my speakers no? perché che ce ne frega a noi però questa volta Gianluca lo voglio ringraziare molto perché mi sembra soprattutto ringrazio voi che avete capito il senso finale di questo momento di incontro grazie infinite a tutti grazie a tutti devo andare al panel che sta qui a